Occorrono circa 350.000 euro per evitare agli studenti dell'Istituto Volta di Pescara il disagio dei doppi turni a scuola per la mancanza di classi. Regione Abruzzo e provincia di Pescara stanno mettendo in campo tutte le misure finanziarie ed amministrative utili per cercare di garantire auli a tutte le classi, comprese le 17 che sino allo scorso anno avevano trovato posto nel Palazzo Fuxas. Si è riuscito in questo intento? Intanto siamo al lavoro per tutte le scuole, di ogni ordine e grado, chiaramente con un'attenzione particolare a quelle superiori, medie e superiori. L'Istituto Volta è una scuola che ha un grande tiraggio di attenzione da parte degli studenti. Il problema è noto, è stato già affrontato negli anni precedenti un esborso da parte della provincia che ovviamente non è che non vuole far fronte al problema, non ha le risorse per il noto Stato, devo dire anche molto grave, con le quali le province sono lasciate con competenza e senza risorse. Ieri abbiamo ottenuto una seconda riunione, è già stata una a scuola con il direttore regionale scolastico. L'assessore Sant'Angelo, sul mandato del presidente Marsiglio, sta cercando la forma per poter aiutare la provincia di Pescara e le altre province a far fronte a questi problemi. Io ritengo che riusciremo a rintracciare queste risorse e d'accordo con la preside eviteremo questi doppi turni. Presidente, lo scorso anno si era ricorsi alla struttura del Palazzo Fuxas, una struttura oltretutto a pochi metri dall'Istituto Volta, che però aveva comportato un esborso economico. Potrebbe essere anche per l'inizio di quest'anno una soluzione ottimale? Questo lo deciderà la provincia insieme con la scuola. Noi sappiamo che naturalmente dobbiamo affittare degli spazi che devono essere idoni e che questo comporterà un esborso economico. Il nostro compito è quello di trovare le risorse. Per far questo credo che un dato di velocità possa riportare su quella soluzione. se la preside e il presidente della provincia le riterranno ottimali. Quello che importa è fare veloce e non causare disagi alle famiglie e agli studenti.